Il mio libro Le Marocchinate rappresenta un omaggio alla memoria di quelle donne, tantissime, che vennero travolte dalla furia dei nordafricani. Quella che doveva essere la liberazione e la fine della Seconda Guerra Mondiale divenne un incubo inimmaginabile. La loro storia è quella di tutte le donne destinate da sempre a pagare col loro corpo qualsiasi guerra. Così la scrittrice Stefania Catallo presenta l'evento che si terrà sabato 5 maggio ad Arce, presso il Palazzo Comunale. Il libro La memoria scomoda della guerra, Le Marocchinate, raccoglie alcune tra le testimonianze più emblematiche delle donne che subirono le violenze dei nordafricani nel maggio 1944, quando questi irruppero nella zona del Basso Lazio per abbattere la linea Gustav che tagliava l'Italia in due e per ricongiungere la penisola liberandola dal nazifascismo. È una grande emozione presentare il mio libro e per questo ringrazio della fiducia accordata mi il sindaco e la giunta di Arce. Sarà un grande onore rendere testimonianza proprio nei luoghi toccati da questo doloresissimo fenomeno. Desidero ringraziare Delfino Angeloni che ne interpreterà alcuni passaggi. Dal libro è stato tratto l'omonimo spettacolo teatrale scritto e diretto da Francesca Romana Cerri che si inserisce in un progetto più ampio di teatro civile rivolto alle tematiche femminili e di violenza di genere di Cara Stefania Catallo che a Roma ha fondato e dirige il centro antiviolenza Marie Anne Eris ed è ambasciatrice del telefono rosa di Frosinone e Ceccano. È un onore partecipare come attrice a questo progetto al femminile con la speranza di scuotere le coscienze attraverso il teatro magari portando allo spettacolo anche qui ad Arce ed ovunque sia possibile farlo per non dimenticare dichiara Delfino Angeloni, giovane e talentuosa attrice romana. La presentazione è patrocinata dall'Università Popolare di Roma dall'Associazione Tassiste di Roma e dalla testata giornalistica online Periodico Italiano Magazine.